Giovedì 12 maggio buongiorno a tutti e ben trovati anche oggi puntuali alle 7 per dare un'occhiata assieme ai giornali che troviamo oggi in edicola allora cominciamo subito come sempre dalle prime pagine dei quotidiani nazionali dove in primo piano su buona parte della stampa nazionale troviamo il viaggio di Draghi negli Stati Uniti l'incontro con Biden per mettere a punto una strategia comune per cercare di fermare la guerra in Ucraina il Corriere della Sera oggi titola così Draghi Putin non è invincibile il premier dagli Stati Uniti dice appunto così ma tutti cerchino la pace Russia e Stati Uniti si parlino tetto al prezzo del gas e poi ci sono anche le parole del russo Lavrov che dice no alla guerra in Europa attacco degli hacker di Mosca a siti italiani bloccato anche quello del senato un attacco che ha reso inutilizzabili questi siti internet ma non c'è stata alcuna alcun furto di dati in questo caso vediamo di spalla donne molestate firme contro la donata degli alpini che dicono scusateci e nuove testimonianze sulla festa a Rimini dopo le segnalazioni anche alcune denunce di molesti e poi ne parleremo quando andremo anche sui quotidiani locali ma adesso rimanendo sulla stampa nazionale vediamo anche l'apertura di Repubblica la via diplomatica titola Repubblica in apertura Draghi cerca l'appoggio di Biden sulla linea europea negoziare la tregua con Mosca e poi ci sono le parole della speaker della Camera Pelosi che dice Roma partner per la pace la carta Macron dialogo con la Cina con Xi Jinping per portare Putin a trattare intanto Orban blocca le sanzioni per impedire l'embargo del gas anche qui poi vediamo un gruppo di hacker russi rivendica l'attacco a siti istituzionali italiani andiamo anche sulla stampa Draghi agli Stati Uniti un tavolo per la pace questa è l'apertura della stampa che poi a centro pagina mette questa foto notizia della ciaieria di Azostal in fiamme ecco la foto a centro pagina ancora il manifesto con un pugno di mosche titola il manifesto la Russia non è più un Golia invincibile Draghi insiste sulla via della pace ma dopo il vertice con Biden restano le distanze tra Stati Uniti e Unione Europea sul campo i russi attaccano la ciaieria di Mariupol con i tank dall'interno della Zostal i militari chiedono una soluzione politica o militare ma per chi aveva il soccorso significherebbe l'impegno di troppi soldati questa è l'apertura del manifesto che poi nel taglio alto mette un'altra notizia di cronaca giornalista uccisa è stato Israele una giornalista molto noto di Al Jazeera è stata colpita nel campo profughi di Geninin Cisgiordania mentre stava appunto documentando quanto stava accadendo in questi territori. Ancora andiamo anche sul fatto quotidiano torniamo alla visita di Draghi negli Stati Uniti Draghi a mani vuote scrive il fatto Stati Uniti sempre più armi missione incompiuta nel comunicato congiunto il negoziato sparisce sottolinea il fatto quotidiano andiamo anche sulla prima del giornale attacco hacker all'Italia offensiva di Mosca i pirati informatici russi colpiscono alcuni siti tra i quali quello del Senato e del Ministero della Difesa la politica si tratta di cyber terrorismo e poi vediamo il piano segreto dell'Unione Europea per l'indipendenza dal gas russo chiudiamo anche il giornale adesso e andiamo a vedere la prima pagina della verità che apre invece con una notizia diversa si torna a parlare di coronavirus delle vaccinazioni dopo le vaccinazioni 480 morti under 40 in più questo il dato pubblicato dalla Verità in apertura sono i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità da maggio inizio delle inoculazioni per i giovani al novembre 2021 prima di Omicron extra mortalità del 7% rispetto alla media dei dieci anni precedenti il leghista Borghi dice numeri inquietanti in attesa di capire il motivo stop alle punture per quelle fasce d'età l'Unione Europea dice da lunedì niente mascherina in aereo eppure in Italia resta dice la verità ancora andiamo anche sulla prima pagina di Libero che apre con le polemiche sulle molestie alla donata degli Alpini le donne del PD stanno con gli Alpini il riscatto delle penne nere scrive Libero le militanti Dem di Rimini si dissociano dal coro di accuse ai nostri militari nei giorni della donata nessuna chiamata alla polizia per segnalare molestie è questa è l'apertura di Libero ancora andiamo anche sul gazzettino reddito 8.400 casi sospetti in Veneto la regione ha segnalato all'Inps 7.500 nomi e altre 900 situazioni dubbie contattati dai centri per l'impiego 48.000 beneficiari e Donazzan dice è un fallimento ma vediamo anche le altre notizie in primo piano sul gazzettino la centropagina anche qui stop alle adunate già 11.000 firme raccolte in una petizione online ed è scontro con chi difende gli Alpini il caso di Rimini 8 politiche venete dicono non si gettano ombre sul corpo degli Alpini e c'è l'intervista a una donna alpino Oriana Papai ex volontaria in Iraq in Afghanistan al vertice del gruppo Alpini di San Vito al Tagliamento che dice io donna e penna nera sempre rapporti corretti e poi vediamo anche qui temi internazionali con le parole di Draghi la pace deve essere quella che vuole l'Ucraina e poi l'attacco hacker ad alcuni siti italiani torneremo più tardi sulle pagine del Gazzettino quando andremo a vedere le cronache dal Friuli adesso andiamo sulla prima pagina del Sole 24 ore e vediamo in primo piano in questo caso l'inflazione americana che resta minacciosa la BCE da luglio stretta sui tassi i prezzi frenano meno del previsto scrive il Sole la Fed potrà accelerare il rialzo dei tassi e poi anche qui vediamo a centro pagina Draghi cercare la pace voluta dall'Ucraina non imposta da altri questo in sintesi il messaggio lanciato dal Premier dopo la visita durante la visita negli Stati Uniti lo sport con la Coppa Italia vinta dall'Inter ecco la prima della Gazzetta Estasi Inter la Coppa Italia ai nerazzurri Juve zero titoli scrive la Gazzetta alta lena di emozioni e gol 4 a 2 ai supplementari con due rigori contestati dai bianconeri Perisic decisivo doppietta e polemica sul rinnovo Allegri espulso mi hanno dato una pedata questa l'apertura della Gazzetta di oggi poi nelle pagine interna ovviamente tante pagine dedicate a questa finale di Coppa Italia vinta dunque dall'Inter chiudiamo la Gazzetta e adesso spostiamo subito la nostra attenzione sui quotidiani locali andiamo sulle prime pagine di Messaggero Veneto Gazzettino Piccolo per dare assieme un'occhiata alle notizie che arrivano dal nostro Friuli Venezia Giulia nel taglio alto firme contro le adunate l'ANA dice via chi sgarra una petizione raccoglie 14.000 adesioni il presidente favero pronti a espellere i responsabili questa l'apertura del messaggero veneto di Udine ieri anche noi siamo andati in città a raccogliere alcune voci tra gli udinesi per cercare di capire come vedono questo fatto di cronaca anche in vista della donata del prossimo anno che si terrà proprio a Udine allora andiamo a sentire quello che ci hanno detto alpini o non alpini sono situazioni deprecabili insomma bisogna in qualche modo educare questi maschi a comportarsi meglio assolutamente nessun commento bisognerebbe conoscere può darsi che siano veramente degli infiltrati si parla di 100.000 200 400.000 persone quindi lì ci può essere di tutto quindi non so cosa dire c'è chi punta l'indice contro gli alpini forse un po' troppo no contro gli alpini alpini penso proprio di no no è impossibile non lo meritano guardi io non c'ero e quindi non posso dare nessun giudizio poi nella mia idea le persone non si dividono per categorie qualcuno che sbaglia c'è in qualsiasi quindi potrebbe esserci anche nel corpo degli alpini penso potrebbe sono convinto che ci sia sempre sui social ci sono troppe cose troppe notizie o presunte notizie un po' diciamo manovrate da persone che credo abbiano qualche problema perché in tantissimi anni sono stati adunati degli alpini non ci sono mai stati problemi del genere anzi gli alpini sono sempre persone molto disponibili non credo quindi che ci siano state qualche apprezzamento magari così ma insomma fa parte un po' anche del folklore ma gli alpini sicuramente avranno bevuto un bicchiere di più però non penso che si arrivi a tanto se ciò è accaduto bisogna aver seguirli e basta torniamo sulla prima pagina del messaggero Veneto di Udine a centro pagina vediamo la fotonotizia primo calo nell'afflusso di gas russo a Tarvisio primo effetto della guerra in Ucraina sull'arrivo del gas russo in Italia ieri la situazione difficile in Donbass ha avuto come effetto il blocco del gas nella località ucraina di Sokranivka uno dei nodi principali per i collegamenti con la centrale di compressione di Malborghetto Valbruna dall'impianto friulano viene pompata e reindirizzata in Italia la gran parte del gas proveniente dalla Russia andiamo di spalla adesso dove troviamo gli aggiornamenti di cronaca eseguita l'autopsia della donna uccisa in via della valle a Udine sono stati presi dei campioni di DNA queste le ultime notizie gli ultimi aggiornamenti su questo caso di cronaca andiamo a sentire anche il servizio di David Zanirato che ci fornisce altri particolari su quanto è accaduto appunto in via della valle 10 colpi di coltello al tronco 7 al collo 3 alla coscia destra davvero una furia omicida quella contro la povera lauretta Toffoli morta dissanguata per shock emorragico da ferite da punta e taglio questo quanto emerge dall'ordinanza di convalida del fermo nei confronti di Vincenzo Paglialonga l'uomo accusato dell'omicidio dell'anziana condomina di via della valle a Udine trovata morta sabato scorso in particolare il GIP Matteo Carlisi ha considerato i numerosi e gravi indizi di colpevolezza raccolti nel corso delle prime fasi dell'indagine testimonianze immagini dei sistemi di videosorveglianza e reperti sequestrati che collocano il quarantenne sul luogo del delitto essendo stato visto entrare nell'appartamento della donna quella sera di venerdì più volte è stata riconosciuta la sua voce in concomitanza con le urla di aiuto l'uomo poi è stato trovato in possesso senza giustificazione mentre nel suo di appartamento sono stati recuperati oggetti mancanti da quello della vittima tra cui appunto i due televisori e soprattutto un coltello da cucina con apparenti tracce di sangue compatibili con le ferite riscontrate sul corpo della donna accertamento questo che è stato approfinito oggi in sede di autopsia affidata al medico legale Carlo Moreschi gli inquirenti hanno disposto pure l'esame subungueale che può permettere di recuperare tracce di DNA del colpevole alla luce del fatto che la donna avrebbe lottato contro il suo aggressore prima di ricevere le venti coltellate infine sempre nell'appartamento di Paglialonga sono stati recuperati due calzini macchiati di sangue indumenti appena lavati simili a quelli indossati dall'omicida quella notte elementi che nell'interrogatorio in sede di udienza di convalida però sono stati respinti dall'uomo anche se secondo il GIP non hanno attenuato i gravi indizi di colpevolezza ne hanno evidenziato elementi in suo favore GIP che tra l'altro ha ulteriormente emesso un'ordinanza di convalida dell'arresto effettuato in flagranza per il reato di evasione che lo stesso ha posto in essere nel corso della notte anche per questo il dottor Carlisi ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere l'attività investigativa comunque proseguirà hanno fatto sapere dalla questura friulana al fine di ricostruire compiutamente la dinamica dei fatti senza tralasciare alcun elemento rilevante Andiamo avanti con la cronaca sempre di spalla sulla prima del messaggero veneto di Udine vediamo la polemica di chi è rimasto escluso da Udine sotto le stelle e poi ancora a Tolmezzo colletta per ricomprare i computer rubati alla scuola elementare nel taglio alto si parla dell'ancora dell'incognita covid sul piano ferie del personale ospedaliero e poi Ponte Rosso nuova industria Ponte Rosso saranno investiti 25 milioni Andiamo adesso nel taglio basso dove invece per quanto riguarda le pagine sportive vediamo l'apertura ieri di Evicino lontano con Caracciolo tra gli ospiti della giornata prima che ci sia una tregua passeranno mesi il riferimento ovviamente è alla guerra in Russia allora andiamo a sentire l'intervista che abbiamo realizzato anche noi che ha realizzato Francesca Santoro ha sfidato l'Occidente e lo ha sfidato con un'ambizione che va molto al di là dell'Ucraina cioè quella di riaffermare la Russia come grande potenza e addirittura come avanguardia di un nuovo ordine mondiale in chiave anti-americana insieme alla Cina all'India a paesi del terzo mondo quindi una vera e propria come dicevo rivoluzione geopolitica che cerchiamo di analizzare in questo volume di Limes dedicato al caso Putin in cui Putin anche personalmente gioca un ruolo notevolissimo una guerra che si combatte sul campo ma che si combatte anche a livello economico e ci saranno anche conseguenze a livello sociale sì è una guerra oggi a livello mondiale combattuta soprattutto sul piano economico le sanzioni le controsanzioni che stanno tagliando per certi aspetti temo in maniera definitiva anche alcuni canali di comunicazione della famosa globalizzazione o come la si voglia chiamare e sarà difficile tornare a prima il rischio è anche per il nostro paese che dovendo sempre inasprire le sanzioni si arrivi a creare anche per noi non solamente per i russi una situazione molto poco sostenibile con anche riflessi sulla tenuta sociale speriamo non istituzionale del paese lei ha parlato di conseguenze imprevedibili di questa guerra sì nel senso stretto della parola non si può prevedere credo che non lo possa prevedere né Putin né Biden né Zelensky quello che possiamo prevedere è che se si continua così cioè se si continua a sparare il rischio è che la situazione vada fuori controllo che ci possano essere degli incidenti che coinvolgano paesi dell'alleanza atlantica per esempio o che la Russia messa alle strette decida di ricorrere a delle armi definitive lei ha detto anche che non si immagina un tavolo di pace un congresso di Vienna no non siamo più in quei tempi non c'è la possibilità anche la delegittimazione reciproca e forte penso che quello che si può avere anche in tempi abbastanza brevi è una serie di cessati il fuoco che possono anche durare nel tempo e limitare i danni di questa guerra ma non una vera pace non c'è la possibilità che Putin sia fatto cadere da qualcuno anche all'interno del suo regime c'è ma è una possibilità a mio avviso ancora abbastanza remota se si dovesse verificare non sarei così sicuro che il successore sarebbe più favorevole a noi o più disposto a trovare una pace queste dunque le parole del direttore di Limes adesso torniamo sul messaggero Veneto di Udi nella prima pagina del fascicolo dedicato alla città e alla provincia vede l'approfondimento della notizia richiamata anche in prima pagina attività ridotte e meno posti letto l'incognita covid sul piano ferie e poi vediamo tutto l'articolo con tutti gli approfondimenti andiamo sul messaggero Veneto di Pordenone e vediamo anche qui le notizie principali i titoli principali che per quanto riguarda l'apertura e la fotonotizia a centro pagina sono gli stessi che abbiamo visto anche sull'edizione di Udine andiamo allora di spalla Pordenone svolta nei quartieri e cambia la raccolta del verde e poi ancora lo spacciatore incastrato durante i controlli del lockdown reddito di cittadinanza e vita da ricchi in quattro finiscono nei guai andiamo a vedere le altre notizie di cronaca nelle nostre flash news ancora un attimo vivevano tra auto di grossa cilindrata oggetti di lusso gioielli e orologi ma intascavano il reddito di cittadinanza 11 autori di truffe informatiche sono stati smascherati dalla polizia di stato che li ha individuati a seguito di una complessa indagine condotta dal compartimento della postale per la Liguria la Toscana il Veneto e il Friuli Venezia Giulia tutto è nato da una coppia che si occupava di ritirare presso degli sportelli di istituti di credito dell'alta Toscana quelli che poi sono risultati essere i proventi dell'attività criminale di un'organizzazione più articolata l'indagine ha permesso di individuare i complici e di definire i compiti svolti da ciascuno degli appartenenti alla banda residenti tra Toscana Veneto e Friuli Venezia Giulia su richiesta del servizio di soccorso i vigili del fuoco sono intervenuti dopo le 13 di oggi in un appartamento al terzo piano di un edificio di Remanzacco per soccorrere una signora infortunata si cadendo nel proprio appartamento a causa delle lesioni riportate nella caduta e della conformazione del bannoscale i pompieri hanno concordato con il medico intervenuto sul posto di trasportare la ferita dall'appartamento fino in strada caricandola con un'apposita barella sul cestello dell'autoscala ancora incidenti nella giornata di Erna lungo l'A4 nel tratto tra la Tisana e Porto Gruaro in direzione Venezia un urto laterale ha coinvolto un furgone e un autocarro poco dopo il ponte che supera il tagliamento nel nuovo tratto a tre corsie dopo lo schianto il furgone è andato a sbattere contro la barriera in cemento che rivedero le due carreggiate fortunatamente l'urto non è stato violento ma il mezzo finito di traverso ha creato difficoltà alla viabilità ferito in maniera non grave il conducente nel pomeriggio altro tamponamento tra due mezzi tra le uscite di Sanstino e Porto Gruaro in carreggiate est verso Trieste due le persone ferite è stata una fatale mancata precedenza da parte di un'automobilista ultra novantenne a costare la vita a soli 43 anni a Fabio Segato a conclusione delle indagini preliminari sul tragico incidente che è accaduto il 4 marzo del 2021 a San Daniele del Friuli in seguito al quale è deceduto il compianto istruttore collaudatore di moto di Porto Gruaro il PM di Udine Letizia Puppa ha chiesto e rinviò giudizio per il 93enne san danielese al volante della Volkswagen Tiguan il quale svoltando a sinistra in un incrocio sulla regionale 463 ha tagliato la strada e travolto la Ducati della vittima che sopraggiungeva in direzione opposta nei giorni scorsi la polizia ha arrestato un tristeno di 44 anni perché trovato in possesso di oltre un chilogrammo di droga occultata in una roulotte parcheggiata alla periferia della città e destinata allo spaccio l'arresto arriva nell'ambito di una più ampia operazione antidroga coordinata dalla procura che nei primi giorni di aprile aveva interrotto una rete di spaccio in ambito cittadino con il rintraccio e l'arresto di 8 soggetti destinatari di misura cautelare e di altrettante perquisizioni domiciliari verso le 15 di oggi i pompieri di Trieste sono intervenuti per un incendio all'interno della piattaforma logistica in via degli alti forni sul posto la squadra ha trovato un mini compattatore mobile in fiamme viste le complesse operazioni di spegnimento ha dovuto richiedere in rinforzo un furgone attrezzato con liquido schiumogeno e un autobot fortunatamente nessuno è rimasto ferito c'è la sanità in apertura sulle pagine fordenonesi del messaggero Veneto con le parole del nuovo direttore generale dell'azienda sanitaria Friuli occidentale Tonutti che dice riparto dalle relazioni sciopero revocato RSA da sbloccare poi ancora le aziende sono le persone che ci lavorano dentro bisogna cominciare ad assumere a tempo indeterminato queste le parole del nuovo direttore generale chiudiamo il messaggero Veneto di Pordenone andiamo adesso sul gazzettino del Friuli e vediamo anche qui i titoli principali in apertura la sanità con il covid che blocca ancora interi reparti scrive il gazzettino da due mesi tra 150 e 160 pazienti ricoverati in isolamento le regole non cambiano quasi 200 posti bruciati in ospedale e poi la gran parte dei malati attuali ha solo il tampone positivo Riccardi dice dobbiamo mantenere le aree dedicate alla pandemia nel taglio centrale assalto agli alpini adunata nel mirino campagna contro l'evento dopo le denunce di molestie è stata avviata una petizione vediamo per quanto riguarda la cronaca lo abbiamo sentito nelle nostre flash news investì e ucciso un motociclista processo 93enne e poi i truffatori vivevano nel lusso con reddito di cittadinanza per le interviste fuori ordinanza l'intervista al sindaco di Ecomeglianz Flavio De Antoni non sono superstizioso ma se un gatto nero mi attraversa la strada dice il primo cittadino di spalla il paradosso c'è lavoro ma le aziende lasciano a casa dipendenti perché mancano le materie prime le schede elettroniche in questo caso all'electrolux di Porcia agricoltura arrivano gli aiuti per evitare di chiudere dal consiglio regionale nel taglio basso ancora l'omicidio di Lauretta Tofoli l'assassino ha cercato di fare a pezzi Lauretta e poi l'OPA su Civibank supera il 66% ma c'è un'interrogazione in Parlamento andiamo anche sul piccolo di Trieste e andiamo a vedere anche qui i titoli di apertura nel taglio alto le mogli di Azov dal Papa Draghi a Biden serve la pace questo per quanto riguarda le cronache che ci arrivano appunto dall'Ucraina gli aggiornamenti sulla situazione internazionale a Trieste invece la svolta blu delle navi davanti alla costa le imbarcazioni useranno carburanti con meno zolfo per ridurre le emissioni questo il patto che è stato siglato ieri a Trieste chiudiamo il piccolo e in questi ultimi minuti a nostra disposizione andiamo sulle pagine sportive dei quotidiani locali facciamo il percorso a ritroso e allora iniziamo dal gazzettino per quanto riguarda l'udinese vediamo le parole di Orlando un ex che dice Udoge è un fenomeno il terzino volante di fine anni 80 stravede per il suo giovane successore presto arriverà in nazionale dice complimenti a chi ha creduto in lui la squadra ha fame e poi di spalla da Ciarena viaggia verso quota 20.000 per l'ultima gara di campionato in casa quella di sabato ancora sempre sulle pagine del gazzettino nel taglio basso tra i doppi ex brillano cioffi spalletti e scuffette l'allenatore Enedo Sonetti riuscì a centrare la promozione sia in Liguria che in Friuli pochi i precedenti tra Udinese e Spezia e poi abbiamo tutto l'articolo che ci racconta appunto i precedenti di Udinese e Spezia ancora vediamo anche la pagina successiva cattive sensazioni per success e Beto solo il portoghese potrebbe giocare uno spezzone di gara a Salerno forzare il rientro dei due attaccanti appare rischioso scrive ancora il messaggero e scusate il gazzettino ancora andiamo a vedere anche le pagine sportive del messaggero veneto e vediamo anche qui i titoli di apertura del fascicolo sportivo eccolo qua c'è un'intervista proprio a scuffette attenta Udinese la voglia di salvarsi dello Spezia può fare la differenza l'ex impegnato nella volata Champions con Lapuel analizza la sfida di sabato al Friuli contro la squadra che portò in serie A e poi c'è tutta l'intervista appunto che lascio a voi leggere chiudiamo anche questa pagina del messaggero veneto e prima di salutarci andiamo anche sulle altre prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali vediamo Corriere dello Sport e Tutto Sport la gazzetta l'abbiamo già vista prima e ovviamente su tutti e tre i quotidiani c'è la foto di gruppo dell'Inter che alza la Coppa la Coppa Italia il Corriere dello Sport titola tutte sue dopo la Supercoppa anche la Coppa trionfo Inter all'Olimpico battuta la Juve 4 a 2 dopo i tempi supplementari proteste bianconere per i due rigori ai nerazzurri espulso Allegri Perisic protagonista con una doppietta e poi vediamo anche Tutto Sport Inter di rigore rabbia Allegri scrive Tutto Sport finale di Coppa Italia ad altissima tensione due penalty per i nerazzurri che dopo 11 anni conquistano il trofeo ai supplementari Max Furioso con la panchina di Inzaghi che è appunto l'allenatore della Juve è stato espulso chiudiamo Tutto Sport e chiudiamo anche questa nostra rassegna stampa di oggi non prima di ricordarvi però gli appuntamenti principali di questo giovedì sul nostro canale l'informazione ritorna alle 12 con il Tg in diretta alle 15 pomeriggio calcio alle 16 il Tg del pomeriggio alle 19 il Tg della sera seguito dalle informazioni sportive alle 19.30 dalle cronache da Pordenone alle 19.45 alle 20.45 le pillole di Fair Play alle 21 l'agenda di Alberto Terasso oggi l'appuntamento con l'agenda del giovedì Udine la lunga ricorsa al voto questo il titolo dell'approfondimento e alle 22.30 in chiusura di giornata gli ultimi aggiornamenti di cronaca con l'edizione della notte del nostro telegiornale è davvero tutto vi lascio alle previsioni del tempo e vi auguro ancora una buona giornata un saluto agli amici di Udinese TV e ben ritrovati con un nuovo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo ci attende un giovedì di bel tempo sul Friuli Venezia Giulia grazie a un anticiclone subtropicale in rinforzo sulla nostra penisola poco da segnalare avremo cieli prevalentemente sereni in pianura sui rilievi invece qualche addensamento in più nel pomeriggio con possibili brevi e isolati piovaschi sulle Alpi temperature massime fino ai 26-28 gradi più nel dettaglio sulle province di Pordenone Udine giornata di bel tempo cieli prevalentemente sereni in pianura qualche nube di passaggio nel pomeriggio sui rilievi temperature in aumento con valori da sapore quasi estivo toccheremo i 28 gradi sulla provincia di Pordenone situazione analoga poi sulle province di Gorizia e Trieste giornata caratterizzata da grande stabilità con cieli prevalentemente sereni e sole protagonista durante tutta la giornata in un contesto asciutto temperature anche qui in aumento con massime che toccheranno i 24-26 gradi tutti i dettagli sul tempo nelle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.